Tredicesimo giorno di quarantena! Allora oggi diamo un po' di spazio alla creatività. Vi propongo di fare un disegno. E perché non fare proprio un autorotratto? E allora basta che vi procurate uno specchio. Cerchiamo di fare un bel disegno proprio nel dettaglio. I dettagli sono importanti. Tanto c'è tempo. E allora vediamo insieme gli attrezzi del lavoro. Quello che vi serve assolutamente è un bell'album da disegno. Poi tre matite può fare chiaroscuro. Una hack, una cabot, un depperino, una bella gomma e un fazzoletto perché andremo a fare un chiaroscuro. E allora posizioniamo bene il nostro specchio e cominciamo! Ecco qua! Ho fatto il mio bell'autoritratto! Eh? Poi non è che dovete andare nel dettaglio per forza o giocare col chiaroscuro come ho fatto io. L'importante è che ce la mettete tutta. Dai a casa con Bippo!